Riforma della pubblica amministrazione, più rischi o più opportunità? No, è più opportunità. Il vero problema è che noi da anni in Abruzzo potranno anche ricordare le nostre iniziative che abbiamo preso, insistiamo, sulla revisione della macchina regionale. C'è bisogno di lavorare a sistema, di lavorare per obiettivi, di superare parcellizzazioni, aspetti burocratici che impediscono anche al sistema economico e sociale di funzionare al meglio. E' nell'interesse del sindacato, dell'economia. La politica su questo deve essere più attenta. I lavoratori sono interessati a un vero cambiamento, poi le eccezioni, confermo la regola, ci sono dappertutto, ma il sindacato non difende le eccezioni, vuole una vera riforma della pubblica amministrazione, anche nella nostra regione, come per le province, dove tuteleremo i lavoratori perché abbiano un posto di lavoro e alla fine qualcuno che deve essere accompagnato in pensione si è accompagnato in pensione. Ma quello che ci interessa è che i servizi che dà la collettività alle province non vengono abbandonati. Spina, qualche giorno fa Pescara è venuto in visita il Ministro del Lavoro Poletti. Avete avuto un incontro con il Ministro per parlare delle emergenze occupazionali della nostra regione. Cosa vi ha detto il Ministro? Il incontro è stato proprio in questa sede, quella dell'Aurum, una settimana fa. Abbiamo incontrato il Ministro Poletti sottolineando quelle che sono le nostre preoccupazioni. Devo dire che abbiamo avuto anche una certa attenzione adeguata, anche se tutte le risposte non sono state sufficienti. In modo particolare sono la carenza di risorse. Noi abbiamo un bilancio regionale che ha problemi, soprattutto sulle risorse, le politiche attive del lavoro e del sociale. Abbiamo i fondi europei che riguardano proprio il fondo sociale, che è diminuito più della metà. Nei prossimi sette anni la regione rischia di non avere risorse. Allora abbiamo detto che le politiche nazionali, le risorse nazionali dei PON devono essere raccordate con quella della regione. Noi siamo disponibili a essere punto di riferimento di sperimentazione nazionale, purché ci diano anche risorse nazionali. Per esempio abbiamo detto sull'Agenzia del Lavoro, sperimentata in Abruzzo la riforma dell'Agenzia del Lavoro. Abbiamo chiesto poi la necessità di avere la copertura dei fondi per quanto riguarda la cassa inderoga. Su questo non abbiamo avuto forti rassicurazioni, anche se ha detto che le poche risorse disponibili sarebbero state sbloccate a poco tempo, a leggero di poco tempo, ma queste non sono sufficienti per coprire tutto l'anno. C'è bisogno di uno sforzo maggiore.